Ora siamo qui con la nostra amica Olga e andremo proprio a vedere concretamente come sensibilizzare l'inconscio attraverso il sistema delle analogie. Procediamo adesso proprio con un esempio legato a sinonimi e contrari. Buio. Olga già nella posizione ortostatica. Buio. Ecco, vediamo che l'inconscio di Olga non gradisce il buio o ciò che esso rappresenta per lui. Luce. Vediamo il suo contrario. Luce. Luce. La luce piace al suo inconscio. Facciamo un altro esempio ancora. Caldo. Caldo. Il caldo non piace, non attrae al suo inconscio. Fresco. Fresco. Il fresco sì. Facciamo un altro esempio ancora. Freddo. Freddo. Ecco, né il caldo né il freddo sono graditi, ma lo è invece il fresco.